Scusandomi della ripetizione, avere la fortuna di una città dedicata alla Deo Fortuna è un qualcosa che può essere usato anche dal punto di vista turistico, dal punto di vista degli sponsor, di tante cose. Poi, da un punto di vista culturale, cioè Fano, città del carnevale, sì, ma ce ne sono tante di città del carnevale. Fano, città dei bambini, non mi sembra un nome da dare, insomma, un po' come Roma-Roma capitale, cioè Roma-Roma, chiuso il discorso. Fano ha questa fortuna, quindi abbiamo pensato di dedicare la terza giornata in onore del professor Luni, famoso archeologo e professore di archeologia all'Università di Urbino, purtroppo scomparso l'anno scorso. Tre giornate in suo onore, le prime due giornate avvengono ad Urbino all'Università, la terza giornata, visto che lui era membro del nostro comitato scientifico, la facciamo a Fano. E la facciamo dedicata alla fortuna. Il livello dei convegnisti, come il solito, direi che è di grande importanza. Cioè, la mattina, diciamo, forse un po' meno scientifico, ma più divulgativo all'aula magna del liceo scientifico, con tanti ragazzi che saranno presenti. Il convegno avviene nella sala della Fondazione Cassa di Risparmio in via Montevecchio. E quello comincia alle tre e andrà avanti con i vari convegnisti.